Avremo delle pattuglie aggiuntive che saranno dedicate ai controlli, soprattutto negli esercizi pubblici. Quindi Polizia di Stato, Carabinieri, c'è il concorso importante della Guardia di Finanza e oltre a questo c'è il concorso importante, fondamentale della Polizia Municipale. Ogni forza in campo è una giornata diversa dalle altre. Città divise in tre quadranti, controlli anche nelle province. Verifica a campione, multe tra i 400 e i 1000 euro per i trasgressori. Le nuove regole del Green Pass, la prova dei fatti. Quello rafforzato, solo per guariti e vaccinati, per accedere a bar, ristoranti, teatri, stadi, cinema, cerimonie. Quello base, con tampone molecolare o antigenico, per hotel, impianti da sci, piscine, palestre. Ma soprattutto, ed è questa la novità, per i mezzi pubblici. Quindi saranno fatti i controlli a terra, in prossimità delle fermate. E lì agiranno i controllori delle aziende di trasporto, con il supporto in particolare della Polizia Municipale. Il Green Pass servirà anche ai ragazzi dei 12 anni in su. Questione delicata, non tutti sono vaccinati o potranno fare il tampone. Probabile che nei primi giorni ci sia più tolleranza nelle verifiche. Il prefetto chiede però collaborazione. Ogni cittadino deve fare la sua parte. Anche nei controlli bisogna avere un po' di pazienza. Noi cercheremo di non stressare il cittadino. Però, naturalmente, questi controlli vanno fatti. Se si fanno in collaborazione con loro, tutto va per il meglio. Rimane il tema dei cortei no Green Pass, con tanti manifestanti senza mascherina. Ieri sono stati multati e identificati una linea che sarà seguita anche in futuro. Assolutamente, le manifestazioni non possono certamente essere vietate. Ma vanno svolte nel rispetto di quelle che sono le normative ispirate al controller e al contrasto della pandemia.